buongiorno oggi è la festa di san giacomo apostolo fratello di giovanni e dei due fratelli il vangelo ci propone una storia piuttosto interessante oggi dal capitolo 20 di matteo versetti dal 20 al 28 teniamo presente che stiamo appunto ricordando la santità di quest'uomo e la sua testimonianza che per noi è diventata fondamentale come quella di tutti gli apostoli e lui sono loro che ci hanno manifestato e trasmesso l'annuncio della verità che ci salva gesù è risorto quel gesù con cui hanno condiviso la vita e che hanno visto morire in croce adesso è vivo e per sempre ebbene questa figura così importante di giacomo e degli altri in particolare di giovanni il suo fratello nel vangelo oggi emerge come una figura di grande umanità nella fragilità di quello che questo vuol dire infatti giacomo e giovanni secondo matteo attraverso l'intercessione della mamma chiedono a gesù di essere posti una destra e una sinistra quando egli sarà nel trono del suo regno dunque chiedono i primi posti chiedono di stare accanto al maestro accanto al capo in qualche modo potremmo dire così lassù in cielo chiedono di essere i primi ora questo atteggiamento che irrita e fa sdegnare gli altri dieci discepoli può sembrare a noi veramente fuori luogo come è possibile che gli apostoli che i capi della chiesa che i trasmettitori appunto dell'annuncio della salvezza si manifestino in questa ambizione di primeggiare ebbene gesù non rimprovera questo desiderio di essere al primo posto ma indica la strada giusta se volete essere i primi dice gesù fatevi servi diventate come me che mi faccio schiavo per voi io che sono il figlio dell'uomo e non sono venuto per essere servito ma per servire e dare la mia vita e riscatto per molti che bello riconoscere che gesù ha a cuore la nostra umanità al punto da farla esprimere in pienezza gesù non ci rimprovera se vogliamo primeggiare ma ci fa capire che la via per essere al primo posto nel regno di dio non è quella del successo del potere del sedere su un trono più alto degli altri piuttosto è la via del servizio dell'abbassarsi per poter lavare i piedi del porsi tra gli umili tra gli ultimi poveri fra i poveri gareggiamo anche noi insieme a giacomo l'apostolo che imparerà la lezione e diventerà anche lui sulla croce martire per il regno di dio ecco impariamo anche noi la via per essere i primi nel regno i primi nel servizio i primi nell'amore concreto i primi nel prendersi cura di chi accanto a noi è più povero ed è marginato buona missione a ciascuno primi fra gli ultimi